Si nascondeva in un bunker ricavato dietro la parete della camera da letto alla quale si accedeva ruotando il pomello di un'attaccapanni. Il boss dell'andrangheta Cosimo Damiano Gallace. I carabinieri di Catanzaro lo hanno arrestato questa mattina a Isca sullo Ionio in Calabria davanti alla moglie e alla figlia di 4 anni. Nelle bunker sono stati ritrovati 35.000 euro in contanti, un tablet e 9 cellulari di cui 2 danneggiati dallo stesso Gallace prima di essere scoperto. Il capo della cosca di Guardavalle, oggi 60 anni, di cui 20 già trascorsi in carcere, dovrà adesso scontarne altri 14 per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.